in una ciotola mescolare la semola di grano duro rimacinata con il lievito di birra secco e lo zucchero. Accionare la planetaria ed aggiungere l'acqua tiepida poco per volta. Quando l'acqua si sarà amalgamata aggiungere il sale e l'olio d'oliva e impastare per 10 minuti alla massima potenza. Staccare l'impasto dal gancio, coprire con pellicola e panno di cotone e far lievitare il luogo caldo per tre ore. Spostare l'impasto lievitato sul piano abbondantemente infarinnato con della semola, appiattire delicatamente e procedere a fare quattro pieghe. Appiattire di nuovo molto delicatamente e poi arrotolare l'impasto su se stesso, prima in un verso e poi nell'altro. Pizzicare i lati così da chiudere bene il pane e poi spostare in una teglia da 22-24 cm abbondantemente infarinata. Coprire con solo il panno e far lievitare il luogo caldo per 45 minuti. Con un coltello ben affilato fare la croce sulla superficie. Infornare a 200 gradi preriscaldato per 40 minuti circa con un pentolino interamente in alluminio con dell'acqua sotto.